Amici di Tresbondiani, bentornati. Superdissing rapido a Lambrusco. Ragazzi, ma questo qui lo facciamo fermare che sta ragazzi rovinando la gente con questa stronzata del trading. Lambrusco, solo il 5%, forse il 2%, vince nel trading. Tutto il resto di coloro che giocano perde, perde. Lo vuoi capire che il trading è come il casino, come le slot machine, come il poker, è un gioco d'azzardo? Lo vuoi capire? Ragazzi, condividete questo video. Finisci là. Lo sappiamo che ti paga quel buffone di parrucco, son. Lo sappiamo che ti paga Morrison. Morrison, quel buffone che fa i corsi e poi ingentiva la gente iscrivetevi alla piattaforma. Mettete i 1000 euro, con 1000 euro li faccio diventare in due mesi 10.000 euro. Diventate ricchi, ma gran pagliacce tutti quanti. La volete finire? Ragazzi, questo qui, Lambrusco, ha cambiato ultimamente. Non faccio più il personaggio di Lambranedetto, adesso mi dedico solo al trading. Perché sotto banco c'è Morrison, c'è Morrison che lo paga. Perché ragazzi, lui fa tipo come il maestro spiega il trading, eccetera, eccetera, con quella faccia da sanderellino e poi la gente ci casca. Naturalmente, chi segue Lambranedetto poi segue anche Morrison. E cosa accade? Accade che se ne va nella piattaforma di Morrison e si va a rovinare. È la stessa cosa che Morrison, ragazzi, apre un casino in una città. Vi faccio questo esempio. C'è un paesino. Morrison ha l'unico centro slot machine, centro scommessa, eccetera, eccetera. e Lambrusco è la televisione di quel paesino. Cosa accade? Accade che Lambrusco tutti i giorni dice ragazzi, andate alla slot machine che si vinge. Ragazzi, la slot machine è il pane quotidiano. Vuoi diventare ricco? Vuoi uno stipendio fisso di 1000 euro? Andate alla slot machine, andate a giocare i soldi che prima o poi vincete. Ragazzi, la gente gioca e gioca e gioca nella speranza di vincere i milioni di euro. Ma non vinge mai. Chi vinge? Vinge la slot machine, vinge il governo. Non vingono le slot machine, i capi delle... Ragazzi, la volete finire? Non la volete finire di seguire sto Lambrusco e Parrucosan e poi anche l'altro là, il ciccione volante che promuove queste slot machine? Finitela. Finitela perché mi ingazzo, vi faccio i dissing e io sì che vi strong. Vediamo se riescono a strongare questo video qui. Vediamo se riescono a strongare. Ragazzi, come me, ci sono i marziani, c'è Zagami, ci sono tantissimi italiani intelligenti che sanno che il trading è nocivo. Sanno che il trading è nocivo. Vingono solo forse il 2%, il 3%, forse massimo il 5%. Perciò, da che parte stai tu? Tu che segui Lambranedetto, tu che segui Barrucosan, tu che segui il ciccione volante. Stai nella parte del 95% e perderai, porco del diavolo. Arrivederci.